Allora, riprendiamo da questo semplice esempio ancora un paio di note, in parte dovute anche grazie ai vostri commenti dell'intervallo la prima cosa che forse non era tanto chiaro, ciò che avevo scritto qua dove avevo scritto prova minore di minimo e sotto anche minore A, minore di B l'avevo scritto qua sotto, ma non era, volevo dire che o scrivo questo o scrivo l'altro non che dovevo scrivere tutti e due, uno dopo l'altro, quindi sono due modi lo scrivo adesso qua sotto così fosse un po' più chiaro, due modi diversi di verificare la stessa condizione qual è, ricordiamoci, cosa facevamo qua? qui ci chiedevamo se prova non è troppo grande la frase si trova non è troppo grande non è adatta all'algoritmo, non è precisa, è ambigua ma ci aiuta a capire cosa stiamo facendo la solita persona che entra da una porta è in grado di fare quei confronti A, minore di B, eccetera ma magari non sa perché lo sta facendo allora questo è il motivo per cui un costrutto fondamentale in tutti i linguaggi di programmazione è il cosiddetto commento, adesso non lo mettiamo anche nel pseudo codice un commento che cos'è? è un semplice testo, un frammento di testo che io scrivo che non fa parte del programma ma serve per commentare alcuni passaggi del programma stesso il commento serve a me programmatore per capire cosa sto facendo oppure un mio collega che guarda il mio codice per capire che cosa ho fatto ma il primo diciamo così, destinatario dei commenti sono io stesso che mi aiuta al ragionamento quindi un ragionamento che ho fatto più ad alto livello quando lo scrivo a livello di codice scompare quel ragionamento scompare il concetto di troppo grande a meno che io non abbia l'accortezza di scriverlo perché poi quando domani, dopodomani ritorno su questo codice vedo stare io qua e dico ma che cacchio fa sta roba? ma minimo, perché minimo? io devo calcolare il MCD cosa mi serve per calcolare il minimo? non mi ricordo più che ragionamento avevo fatto è chiaro perché nel frattempo ne avevo fatti altri duecento quindi quello lì, ormai ha risolto il mio cervello, cosa fa? fa pulizia delle cose che non servono più se io invece mi aggancio un piccolo reminder una parolina, due parole che mi ricordano il ragionamento che stavo facendo vuol dire che alla fine io non devo più andare a rileggere queste due righe perché so già che cosa sto facendo quindi io uso questo carattere qua il cancelletto perché poi il carattere che si usa in Python per i commenti tutte le righe che hanno cioè tutto ciò che parte del segno di cancelletto fino alla fine della riga viene ignorato non fa parte del programma non fa parte dell'algoritmo fa parte delle delle note che io mi prendo a margine dell'algoritmo stesso prova minore di minimo tra A e B e prova contemporaneamente questo significato di E minore di A e prova contemporaneamente minore di B sono la stessa cosa ok? anzi questa è la definizione di minimo in certo senso io posso verificare in un modo verificare nell'altro a seconda di come preferisco scriverlo sono assolutamente non ambigue e danno esattamente il stesso risultato quindi sono modi diversi ti viene in mente scrivere in un modo ti viene in mente scrivere in un modo diverso ok? quando faremo un po' bene le istruzioni condizionali questo E che ci sembra tanto intuitivo poi andremo un attimo a spezzare a capire bene cosa succede nei vari casi nei vari caristi che si possono verificare ma non è questo ancora il punto per la prima lezione qualcuno mi ha fatto notare che questo algoritmo è stupido sì è vero in due modi uno di voi mi ha detto ma scusa non ha detto che io sono stupido il mio algoritmo è stupido non ha detto stupido lo aggiungo io perché parti da uno e vai avanti quando potessi partire da A e tornare indietro e io subito mi stavo difendendo ho detto no ha sbagliato perché se vai indietro poi gli MCD successivi che trovi sono più piccoli del primo che hai trovato e dice no il primo che trovi ti fermi cioè io parto da A o B il più piccolo dei due e provo a vedere se è divisore comune e poi decremento anziché incrementare la prova quindi da 8, 7, 6, 5, 4, 3 il primo che trovo è quello buono andando a decrementare il primo sarà sicuramente il massimo finché non ne trovo vado avanti quando ne trovo uno mi serve è sicuramente più furbo si ferma prima mentre non deve provarli tutti non ci avevo pensato l'altro mi dice sì però abbiamo anche studiato un po' di matematica sappiamo che il massimo comune divisore tra A e B è anche il massimo comune divisore tra A e A meno B o tra B e A meno B quindi se fossi furbo se lo accorrimmo sempre fosse furbo anziché provare uno per volta tu dici senti io prendo A e B faccio la differenza A meno B e lo sostituisco sostituisco la differenza ad A oppure a B cioè sto dicendo che il massimo comune divisore tra 10 e 8 è uguale al massimo comune divisore tra 8 e 2 essendo 2 a differenza tra 10 e 8 e poi posso ripetere questa cosa finché non arrivo a 2 e 2 quindi si riduce questi numeri si riducono molto più rapidamente e devo fare un numero minore di iterazioni assolutamente sì adesso non so se quest'ultimo esempio è stato così chiaro a raccontarlo a parole non è detto perché appunto gli algoritmi se non li formalizzi li capisce solo chi li sa già o chi li ha già in testa però diciamo così non voglio perdere troppo tempo su questo è un modo di sfruttare una proprietà matematica dell'MCD per semplificare l'algoritmo che è sempre una buona idea io ciò che ho fatto qua è stato quello di ops ho perso la slide dove ero prima scusatemi era qua ho implementato l'algoritmo che mi arriva da questa soluzione informale che c'è sulle slide dice parti da 1 e vai avanti e io vabbè questo qua è un'idea la strategia è questa la delineiamo a livello di algoritmo la progettiamo a livello di algoritmo mi sarebbe forse dovuto fermare qui e dire senti ma questo è un po' di modo più furbo o trovo dei modi migliori perché sia il discorso di andare indietro sia il discorso di fare differenze sono strategie risolutive diverse ciascuna che porterà a un algoritmo diverso quindi non è che questo algoritmo sia sbagliato è una realizzazione corretta di quella strategia risolutiva possono esserci altre strategie risolutive che portano ad algoritmi molto diversi tra di loro più o meno efficienti più o meno facili da scrivere da correggere quello che volete ok? quindi per un problema semplice come questo già abbiamo visto che ci sono tre strategie risolutive diverse e poi a livello di descrizione dell'algoritmo probabilmente anche lì ci saranno delle varie ci possono essere vari modi di descriverlo l'abbiamo già visto alcuni ragionamenti che abbiamo fatto quindi veramente lo spazio di di ricerca in cui andare a trovare soluzioni ai nostri problemi è enorme è vastissimo ognuno di noi vede una soluzione una strada per arrivare alla soluzione e prende quella strada lì se hai metto i confronti con un altro rischi di fare come facevo io prima quando mi ha detto guarda che devi decrementare e io ho detto no, non è vero ma perché nella mia testa avevo quel ragionamento che avevo fatto io mentre un altro deve fare un ragionamento diverso immaginate il piacere quando io mi trovo 200 compiti da correggere ognuno ha cominciato a fare un ragionamento diverso io non posso neanche farmi raccontare il ragionamento devo capirlo dal codice scritto però questo è il bello ciascuno porta avanti il proprio ragionamento e arriva alla fine e questo è l'altro motivo per cui quando mi fate una domanda ma questo come si risolve io non vi dico mai come si risolve perché è una domanda sbagliata io al massimo vi potrei dire come lo risolverei io in quel momento ma la domanda vera da fare è io io ho provato a risolverlo così e non mi viene e mi sono bloccato e non capisco questo punto come risolverlo e non so se ho preso la strada giusta e allora ragioniamo sul vostro ragionamento questo è l'unico modo dovete condividermi il vostro ragionamento e non viceversa ok finito il pippone questo stesso credo codice l'avrei anche potuto disegnare col formalismo dei diagrammi di flusso io non vi sto a fare la noiosissima parte delle slide che racconta quali sono i diagrammi di flusso lo dovete guardare ma cerchiamo di arrivare alle parti un pochino più interessanti del corso ma la stessa cosa la posso fare appunto come diagrammi di flusso in cui ho sempre un punto di come si fa? un punto di partenza che è di solito un cerchio e una serie di operazioni che come vi dicevo le operazioni di calcolo le operazioni armetiche si rappresentano tramite un rettangolo MCD uguale 1 prova uguale 2 vado avanti così poi se A dividere per prova questo è un se quindi una scelta devo disegnare un rombo un rombo in cui scrivo dentro tutta questa frase è un po' un rombone grande no? allora a volte solo per motivi grafici questo rombo lo tagliamo facciamo i dati dei rombo ma poi disegniamo un esagono allungato immaginatevi il rombo a cui ho tagliato la testa e la coda perché mi portava via troppo spazio no? in cui scrivo se A divisibile per prova e B divisibile per prova mi permetto di scriverlo pur scrivendo malissimo perché in realtà ce l'abbiamo già scritto bene e i rombi le scelte hanno due possibilità sì o no mentre un blocco di un'operazione fa un'operazione e poi passa il blocco successivo quindi queste frecce devono andare avanti in modo sequenziale quando io ho una scelta un costrutto di scelta di confronto avrò due possibilità o il confronto da esito positivo o da esito negativo se adesso è sempre esito positivo o sempre negativo non servebbe a nulla il confronto lo faccio proprio perché ho il dubbio se è vero o non è vera una cosa e allora dice che se questo è vero devo mettere MCD uguale prova se no non devo far nulla in realtà qui ho scritto non ho nulla da fare praticamente questa situazione qua non si scrive neanche se non c'è niente da fare cosa scrivo? non posso scrivere altrimenti niente cioè potrei ma sarebbe stupido e quindi alla fine quello che si fa è una cosa di questo genere qui ho questo blocco in cui controllo una condizione se è divisibile bla 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 se è vero faccio una certa cosa se non è vero ne faccio un'altra e poi vado avanti questo tondino qua sotto e poi che io sia andato di qua o che sia andato di là poi alla fine devo continuare allo stesso modo facendo cosa? incrementa prova prova uguale prova più uno questo lo devo fare in ambo i casi che lo posso dire lo faccio sia nel primo caso qui che nel secondo caso qui oppure lo faccio quando ho rimesso insieme il percorso e qui si va avanti in ogni caso quindi ho delle deviazioni di strada che poi si ricongiungono il diagramma di flusso è molto visibile questo separare e ricongiungere il nostro protocollo dice lo è un po' meno lo si vede dai numeri io ho usato della numerazione 3.1 3.2 eccetera quando programmeremo in python ci abitueremo a non usare i numeri perché non ci sono i numeri di linea ma l'indentazione il rientro del testo quindi ciò che è in un ramo o nell'altro è rientrato rispetto all'istruzione di condizionamento quindi lo spazio bianco l'allineamento l'incolonamento delle cose è ciò che dice qual è il ramo vero qual è il ramo falso dove comincia dove finisce una biforcazione condizionale ok quindi molto leggero dal punto di vista del sintassi è chiaro che scriverlo a mano non si capisce mai in quanti spazi metti ma nell'editor viene bene e poi sono al punto 4 se prova è minore allora torno al punto 3 quindi ho di nuovo una condizionale prova è minore o uguale al minimo tra a e b sì o no se sì se è minore torna indietro torna qui prima per errore tornavo sopra qui avrei visto molto meglio che tornavo nel punto sbagliato non avrei mai portato una freccia qua sopra dove prova lo rimetto a 2 però l'ho messo a 2 come primo tentativo ma poi i tentativi successivi devono andare avanti in questo caso avere una versione visuale mi avrebbe aiutato a evitare quell'errore che ho fatto se no finici fine dell'algoritmo stampa l'MCD vabbè mettiamo stampa per la gomma stampa MCD ci sono alcuni che le operazioni di stampa d'ingresso le mettono in un parallelogramma anziché in un rettangolo ma è un dettaglio fine stop è la stessa cosa come dicevo io personalmente fatico un po' a fare il diagramma di flusso perché non ho molta manualità nei disegni non ho scritto a mano e poi come dire uno pseudo code scritto a computer è più facile da manipolare aggiungo una rega in mezzo correggo eccetera mentre la cosa scritta con il disegno se devo ah mi sono indicato un pezzo allora devo aggiungere una cosa qua in mezzo o rifaccio il disegno o se no però concettualmente c'è la stessa identica informazione allo stesso identico livello di astrazione livello di livello concettuale quindi sono due strumenti assolutamente identici in entrambi riconosciamo sempre i cinque ingredienti di prima le operazioni che faccio quindi operazione di calcolo prova più uno operazione di confronto minore uguale è divisibile operazione di scelta prendo divido in due e poi li congiungo grazie a un rombo e operazione di ripetizione faccio una certa cosa poi torno indietro quindi faccio qualcosa e torno indietro e ovviamente visto che non voglio creare cicli infiniti al fondo dovrò dire ma guarda è il caso di tornare indietro oppure ho finito operazioni atmetiche confronti ripetizioni scelte e sequenze tutto il resto sono le frecce che danno la sequenza ordinata delle operazioni sono sempre stessi ingredienti rappresentati in un modo diverso dimmi no 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 allora lui dice prima di mettere stampa con mcd avresti messo qua mcd uguale prova l'ho messo qua allora mcd parte da 1 quindi questo algoritmo dice parto da 1 e mal che vada non guardiamo nulla di questo io qua stamperò 1 a meno che in tutto questo giro che ho fatto abbia trovato almeno un caso in cui prova divide sia a che b contemporaneamente allora a questo punto ho rimpiazzato al valore 1 che ci avevo messo dentro questo mcd lo rimpiazzo col valore nuovo che ho quindi io quando stampo questo mcd stampo sempre un valore valido o è l'1 che ci avevo messo dentro all'inizio come paracadute come se non riesco a fare nulla di meglio 1 va sempre bene oppure quest'altro la cosa carina è che il valore che stampo qui non posso dirti a priori se è quello che ci ho messo dentro qua o se è quello che ci ho messo dentro qua non posso saperlo anzi l'algoritmo serve proprio per scoprire quale ok l'importante è che quando arrivi qua in fondo sia garantisca al 100% che lì dentro ci sia un valore e magari anche quello giusto ecco che ci siamo e non deve essersi nessun caso in cui arrivo lì senza aver dato un valore a quella variabile a quel simbolo MCD ok poi tra l'altro questo MCD viene parte da 1 viene aggiornato con 2 ma magari viene a sua volta aggiornato col 5 aggiornato col 7 aggiornato col 12 a seconda dei numeri può essere aggiornato più volte man mano che ne trovo uno migliore con questo algoritmo qua che va increscendo man mano che ne trovo uno migliore lo aggiorno quindi in un certo senso ne approfitto per citare l'uso particolare che si fa in informatica delle variabili poi lo vedremo più formalmente in Python settimana prossima però se qualcuno ha sbagliato orario entra in quest'aula pensando che ci sia matematica e vede scritto prova uguale prova più 1 come fa ad essere uguale x uguale x più 1 non è uguale non può esistere è sbagliato questo qua non capisce niente ok il segno uguale che si usa in informatica non ha nulla a che vedere col segno uguale che si usa in matematica in matematica quando è scritto uguale faccio un matrimonio se io scrivo che y uguale x più 3 nel momento in cui l'ho scritto ho detto una verità assoluta universale che vale in tutti i pianeti dell'universo dal tempo del Big Bang fino alla fine dell'universo stesso vale sempre è un'identità che io impongo con quel segno di uguale ok in informatica non abbiamo tutte queste pretese noi stiamo dicendo senti prova vale 5 fai 5 più 1 il risultato fa 6 e allora adesso prova a farlo diventare 6 e non più 5 cioè i valori delle variabili sono per noi tutti i valori temporanei istantanei mai universali quindi io non sto dicendo che prova è uguale a prova più 1 sto dicendo prendi prova quanto vale vale somma c1 e il risultato sostituiscilo al valore precedente che era la prova così quando scrivo mcd uguale prova sto dicendo prendi il valore che c'era dentro mcd prima buttalo via non mi serve più perché adesso ne ho trovato un altro più bello da metterci dentro il valore temporaneo che aveva mcd prima poteva essere 2 adesso ho trovato 7 e quindi buttavi via il 2 mcd7 lo vedremo meglio formalmente la settimana prossima come vi dicevo però giusto per entrare nella mentalità che questi non sono simboli assoluti l'uguale non è l'uguale matematico ma sono semplicemente dei nomi dei simboli che si ricordano dei valori fino a quando non ci servono prima dicevamo l'output di operazione diventa l'input di quella dopo come fa un output di operazione diventa l'input di quella dopo lo salvo da qualche parte temporaneamente gli do un nome per poterlo ricordare per poterlo riprendere dopo questo nome è prova questo nome è mcd eccetera ok quindi cerchiamo di non leggere i simboli appartenendo a materie che non sono queste ok allora a questo punto secondo me siamo pronti al di là degli altri esempi che trovate sulle slide magari possiamo andare a riprendere facendo degli tempietti ma a entrare un pochino nel vivo permettendoci di fare l'ultimo passo che è quello di effettivamente scrivere il codice adesso noi non siamo ancora e non usciamo sicuramente nel prossimo 40 minuti a imparare quello che di python ci serve per scrivere quel programma dell'amcd ci arrivano tra due settimane ok però cerchiamo di capire un attimo quali sono le caratteristiche di questo linguaggio e come ci si lavora allora qui vi ho già raccontato nel video sull'ecosistema python che è stato appunto inventato da questo signore negli anni 90 perché i linguaggi che c'erano non gli piacevano e quindi se ne è inventato uno che fosse semplice e che appunto batterie comprese che avesse tutto ciò che serviva già direttamente quando ti installavi l'interprete python stesso e vabbè voi l'avete installato ci sono un po' di link che sono gli stessi che abbiamo visto nella prima parte l'interprete python è il programma che ci serve a eseguire programmi scritti in python l'interprete python è il programma che scarichiamo il quale eseguirà i programmi che scriviamo noi ok l'interprete python è un programma anche lui ma quello l'ha scritto qualcun altro noi scriviamo i nostri programmini che sono molto più umili che essendo scritti in python non possono essere eseguiti direttamente dalla cpu come dicevamo allora prima devono essere mediati tradotti da un altro programma che li traduce che appunto l'interprete python quello che abbiamo scaricato qua dal sito python.org oppure dall'app store di windows esegui i programmi scritti da noi e noi questi programmi come li scriviamo? li possiamo scrivere non a mano su un foglio di carta ma all'interno di un ambiente di sviluppo che ci permette di scrivere i programmi basterebbe un qualunque blocco note qualunque editor di testo un programma scritto in python è semplicemente un programma di testo testo puro ok? testo puro vuol dire prendete whatsapp e toglietevi le faccine quello è testo e le immagini non c'è graffetto non c'è colore non c'è dimensione del font eccetera eccetera quello è un testo puro che poi si è scritto con qualunque editor di testo quindi non scriverei un programma con word perché lui fa tutte le impaginazioni in font eccetera che non servono sono inutili anzi non ci devono essere ok? ci sono vari appunto a partire dal blocco note proprio di windows che può essere usato per scrivere anche programmi in python poi li salvi poi li esegui li fa eseguire dall'interprete vediamo poi il problema è che se li usassi il blocco note avrei tutta una serie di passaggi manuali scrivo il programma lo devo salvare poi prendo l'interprete python glielo faccio eseguire eccetera eccetera che devo fare a mano si può ma è un po' scomodo e in più l'interprete cioè il blocco note non sa nulla di python quindi se io scrivo un'istituzione che in python è sbagliata che frega quello è un blocco note è un po' come scrivevo le note prima ho scritto un programma diverso ma io posso scrivere qualunque cosa non è nessun linguaggio è un documento di testo qualunque ecco piuttosto che scriverlo è un programma che non capisce nulla si sono sviluppati dei programmi che vengono chiamati ambienti di sviluppo integrati integrated development environment che ci permettono e di scrivere in un linguaggio di programmazione capendo cosa sto scrivendo cioè l'editor capisce cosa sto scrivendo mi aiuta tipicamente colorando la sintassi evidenziando alcuni errori mi aiuta a scrivere meglio e poi mi dà delle facilitazioni tipo un bottoncino per far partire il programma per eseguirlo per debaggarlo e così via quindi per eseguire programmi in python basterebbe l'interprete python e il blocco note per farlo in modo più comodo ci scarichiamo un ambiente di sviluppo e in questo caso usiamo l'ambiente di sviluppo che vi abbiamo suggerito è visual studio code che è quello che poi ci sarà troverete nei laboratori troverete all'esame quindi tecnicamente io ho fatto l'esempio dove ho un programma scritto col blocco note e poi rimane lì rimane un file di testo salvato sul mio computer per poterlo eseguire devo prendere una finestra di comando scrivere python spazio nome del file e lui lo esegue però un po' scomodo no? l'alternativa è quella di prendere appunto un ambiente integrato dove è finita la foto questa che mi fa fare la stessa cosa ma ha già i vari pezzettini che mi servono tutti nella stessa finestra quindi la poter scrivere poter fare run eccetera eccetera e questo è l'esempio di diviso studio code che usiamo noi questa qui è l'ideata proviamo a fare un po' la conoscenza di questo signore io provo a riavviarlo perché costruiamo un progetto da zero così vediamo un po' quali sono le operazioni di base adesso qua scusate fatemi chiudere il progetto che avevo aperto dove è close ok quindi il viso studio code salta fuori come un programma di questo genere al primo avvio e con la prima cosa ci chiede ci chiede ci chiede niente noi vogliamo creare un progetto dentro cui scrivere il nostro primo programmino dobbiamo crearlo all'interno di un file che conterrà le istruzioni python che poi andremo a imparare la sintassi il programma devo scrivere da qualche parte dentro un file questo file sarà salvato in una cartella quindi quello che si fa come prima operazione è di aprire una cartella all'interno della quale ci saranno i miei programmi metterò i miei programmi poi potete decidere se fate una cartella per ogni lezione una per ogni settimana una per ogni corso una per ogni programma come volete ve lo organizzate come volete apri una cartella e scegli dove creati questa cartella quindi che ne so io faccio tante schifezze c'è una cartella qua teaching informatica dove faccio una cartella primo programma mettiamoci ho creato la cartella e poi gli dico seleziona questa cartella qua quindi ho aperto diciamo così un progetto una cartella nella quale posso scrivere dei programmi lui in questo momento lui non sa ancora che si scriverò in python per ora ho semplicemente aperto una cartella all'interno di questa cartella posso creare dei file o delle sottocartelle ad esempio c'è un comando new file che lo possiamo trovare su questo bottoncino qua oppure direttamente nel menu che chiamerò diciamo così hello che è il primo programma che facciamo è il programma che scriverà hello world punto pi cioè il nome che diamo al file al documento dentro cui scrive uno programma avrà sempre l'estensione punto pi così lui riconosce vedete che ci ha messo a fianco l'iconcina del python quando io ho scritto pi y ci ha messo a fianco l'icona per dire ho riconosciuto che tu qua dentro vuoi scrivere qualcosa in python e quindi attivo tutte le serie di automatismi che sono adatti ai programmi in python batto invio e mi da la finestra nel quale posso scrivere il programma quell'uno non ce lo metto io non fa parte del programma è semplicemente l'editor che mi numera le linee per facilità di lettura quindi io posso dire che questo è il mio primo programma in python questo è un commento inizia col cancelletto quindi è un commento che faccio per me stesso è buona norma mettiamo in un titolo non ho qualcosa che dica cosa faccio qua dentro stampa un messaggio di benvenuto se io scrivessi stampo un messaggio di benvenuto così vedete che me lo sottolinea tutto in colore perché sta cercando di leggere quella frase che ho scritto come se fossero istruzioni python e qui non sto usando la sintassi giusta ho dimenticato di mettere segno di commento ero per farvi vedere che a differenza di un blocco note qualunque lui quando salvo il video studio code quando salvo un file con l'estensione .py cerca di aiutarmi a mantenere la sintassi corretta evidenziandomi gli errori che faccio una sorta di correttore ortografico ma che anziché capire le parole in italiano capisce i costrutti del linguaggio il costrutto più semplice è quello di print dove posso stampare un messaggio scrivendo tra virgolette in questo caso abbiamo un programma di tre righe di cui una sola è un comando python un'istruzione python istruzione print print vuol dire stampa ovviamente tra parentesi ci metto ciò che voglio stampare se voglio stampare un messaggio questo messaggio va racchiuto tra virgolette dettagli di sintassi che si imparano facilmente rapidamente io poi posso questo programma eseguirlo diciamo che è finito e per eseguire questo programma posso usare il tastino run là in alto oppure c'è un menu run che mi dice che posso fare qua start oppure con l'f5 ci sono vari modi ma il più semplice per ora è questo run python file se clicco questo cosa succede? qui siamo nell'ambiente di sviluppo è solo un editor lui non sa python lui dice prendi il mio programma prendi l'interprete python che abbiamo installato sul nostro computer e dire senti caro interprete python prendi questo sorgente qui bellissimo programma che abbiamo scritto eseguilo un po' lui mi apre una finestra l'apri da qua sotto nella quale c'è l'esecuzione dell'interprete python che esegue il mio programma in questo caso lui mi dice vedete che c'è un messaggio che si provo a far run adesso ok mi stampa buongiorno qui c'è sotto in realtà non me l'ha scritto a volte se non trova immediatamente perché cosa succede? che visual studio code deve eseguire il programma python l'interprete python lui a volte lo trova come è successo adesso a volte magari avete installato più di uno sul computer o configurazioni più complicate che vedrò più avanti devo indicargli qual è vedete qua c'è scritto seleziona l'interprete in questo caso c'è questo che è stato installato sul mio computer poi lui è contento alla fine mi dice lo sto eseguendo con questo interprete qua quindi qua in basso a destra anziché se vedete un messaggio di errore come era prima ci cliccate sopra e lui vi fa vedere quali sono dovrebbero essere uno solo gli interpreti python che avete installato sul vostro computer io selezionate lui è contento perché sa che deve eseguire questo ogni volta che faccio run lui vedete se incandisco per leggere meglio quello che c'è sotto lui ha dato un comando complicatissimo che dice guarda vai a prendere python.exe che è l'interprete python avvia l'interprete python e passagli come parametro ello.py che è il file che devi eseguire quindi qui si vede che Visual Studio Code sta chiedendo a python esegui questo programma qua dalla riga successiva ci ha chiesto buongiorno che è l'output del programma il mio programma effettivamente è stato eseguito ha fatto questa print e l'effetto di fare questa print è far comparire su questa console su questo terminale sottostante questo messaggio buongiorno se io aggiungo a tutti e rifaccio run ovviamente lui rilancerà il programma e sotto mi stamperà il messaggio aggiornato quello di prima non lo cambia ovviamente perché ci è stato fatto qui va avanti quindi man mano che io vado avanti posso aggiornare il programma e ogni volta che voglio vedere voglio controllare se è corretto schiaccio sul tastino run e lui lo eseguirà nella finestra sottostante io posso stampare dei messaggi posso stampare dei valori dei numeri quindi lui mi stamperà buongiorno a tutti e poi dopo a capo 3 ogni volta che faccio print mi stampa un valore su una riga nuova posso stampare delle espressioni 3 più 2 mi stamperà 5 faccio attenzione che se io stampassi 3 più 2 messo così mi stampa 5 ma mi stampa 3 più 2 cioè ciò che è tra virgolette viene preso come un messaggio che è una stringa dalla prossima volta è stampato tra le quali ciò che non ha le virgolette viene interpretato come un'espressione matematica di cui lui deve calcolare il valore e poi stampa il risultato dell'espressione calcolata quindi questo programma stampa in realtà queste stesse cose ogni volta questo è l'ambiente in cui lavoreremo se vogliamo fare altri programmi semplicemente nella stessa cartella che abbiamo creato prima possiamo creare altri file e ogni volta farò run dell'altro file e mi stamperà qualche cos'altro quindi possiamo avere più programmi diversi nella stessa cartella quando ne apriamo uno abbiamo quello oppure l'altro questo tastino run esegue sempre il file che abbiamo aperto in quel momento questo come diciamo così versione di base per partire poi vedremo che ad esempio se io dimentico questa parentesi chiusa innanzitutto l'editor me lo evidenzia guarda che la parentesi aperta tonda non è stata chiusa e quindi il print che hai scritto un expected token è qualcosa che non mi aspettavo non doveva esserci e va bene se io ignoro questo che non è una buona idea provassi a eseguirlo il programma lui mi dice anziché stampare mi dà un errore c'è il comando esegui python per eseguire il mio ello.py ma l'interprete python quando legge il mio file dice guarda che alla linea 5 in particolare in questa posizione indicata dalla freccetta c'è un errore di sintassi c'è una parentesi di tonda che non è stata mai chiusa quindi ci sono degli errori che vengono a volte scoperti intercettati già direttamente dall'editor ed evidenziati ma in ogni caso quando il programma parte quando python cerca di eseguire il programma se ne accorge e mi dà un errore quindi in questo caso il programma ha un errore di sintassi errato non ho scritto correttamente le cose è facile la corregge dimmi sì abbiamo tutta la potenza di calcolo delle quattro operazioni no posso scrivere se lo vedremo meglio posso scrivere espressioni espressioni anche complicate e lui chiaramente me lo calcola no 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 qui no posso scrivere espressioni comunque complesse adesso vedremo la prossima volta c'è una libreria matematica con tutte le funzioni anche matematiche che ci possono servire adesso la prima cosa che dovremo però imparare adesso stiamo familiarizzando con l'ambiente la prima cosa che impareremo è il funzionamento delle variabili poi dopo possiamo giocare con l'espressione anche più complicata ok questo è l'ambiente Visual Studio Code per lavorarci dobbiamo aver installato sul nostro computer Python Visual Studio Code e aver creato la cartella in cui mettere i nostri programmi se uno vuole fare una cosa al volo vabbè qui sono le videoteche di quello che abbiamo appena fatto ok qui ci torno se vogliamo fare una cosa al volo possiamo anche usare questo sito che si chiama replit.com che essendo un sito online non richiede di installare nulla quindi vi potete creare una volta l'interfaccia è più pulita poi come sempre capita con i siti ci aggiungono sempre schifezze vi create un account su questo sito replit.com e se volete scrivere un programma create quello che lui chiama un repl scegliete i vari linguaggi di programmazione che lui supporta ovviamente Python lui vi inventa un nome del file di fantasia però potete magari lo possiamo cambiare primo programma stupido clicco su crea e mi crea dentro il browser un ambiente di sviluppo molto simile all'altro in cui mi ha già creato un file main.py quindi me l'ha creato lui non ho bisogno di dargli un nome in cui posso scrivere print hello cambiamo lingua così si vede che siamo internazionali e c'è questo bottoncino run che non vede l'ora di essere premuto in questo caso abbiamo il programma che è nella finestra di sinistra nel pannello di sinistra e l'output del programma l'esecuzione del programma che è sul pannello di destra quindi se faccio run lui mi dirà tamperà hello che è questo messaggio l'interprete Python è lo stesso e se io facessi lo stesso errore mi darebbe lo stesso messaggio ovviamente quindi è semplicemente un ambiente diverso per scrivere programmi e farli eseguire dall'interprete Python che in questo caso non gira sul mio computer quindi non è necessario che sia installato vedo che qualcuno di voi ha anche il tablet quindi potete collegarvi e usarlo tranquillamente col tablet a parte il masochismo di scrivere su una tastiera di un tablet un programma in Python però funziona e rimane ovviamente salvato su questo sito quindi se volete poi averlo ve lo dovete scaricare o ovviamente se fate l'account si salverà i vostri programmi con i nomi più o meno di fantasia ma la cosa è esattamente la stessa funziona esattamente nel nostro suo modo c'è anche c'è anche l'app sì quindi se uno è doppiamente masochista no l'app lo puoi mettere sul tablet oppure anche sul cellulare in cui effettivamente sul tram mentre sei sballottato devi fare aperte virgolette no 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 assolutamente le soluzioni sono moltissime questo per quanto riguarda l'esecuzione di un programma ok scrivo un programma schiaccio run e lui parte e arriva fino in fondo se non ci sono errori c'è anche un'altra modalità per cui Python è famoso che è una modalità interattiva cioè anziché aspettare di scrivere un programma io scrivo un'istruzione e lui le esegue subito è molto comodo quando sto provando come funziona una cosa anziché scrivi tutto un programma puoi fare run eccetera ma se non mi ricordo più questa istruzione qua come funziona no lui dice ma altrimenti insomma puoi fare la moltiplicazione proviamoci però non è che sia un programma apposto allora per farlo ci sono come sempre tanti modi il più diretto usando Visual Studio Code scusate che ho perso la finestra premendo in Visual Studio Code molti comandi sono allora qui abbiamo una barra di sinistra che si può apre o chiude vari ambienti il primo ambiente è quello più utile che contiene l'elenco dei file del progetto il secondo è la ricerca ricerca sostituisci alcuni degli altri probabilmente non li avrete dipende dalle sensazioni che uno ha installato su Visual Studio Code questo è il bottone di debug quindi quando impareremo a fare debug useremo questa videota qua questo pannello cambia le funzioni che vedi su questo pannello essenzialmente questi vari ambienti alcuni comandi quindi li trovate qua in questi ambienti alcuni comandi li trovate nel menu adesso riducco un po' lo zoom perché se no si vedono tutti ma la maggior parte dei comandi li trovate in questo barra di ricerca all'inizio che è una ricerca unificata che ti permette di ricercare tra i comandi possibili i file i contenuti dei file la documentazione eccetera eccetera si può cliccare sopra oppure più direttamente se vogliamo dare un comando F1 il tasto F1 mi permette di selezionare cercandoli i comandi dell'editor di Visual Studio Code questo per dirvi tra questi comandi c'è uno che si chiama Start Repl in questo caso è qua perché l'ho usato di recente altrimenti basta che noi scriviamo sopra Repl e me lo da Start Repl cos'è? Apre un terminale diverso da quello di prima vedete che qua sono comparsi due Python è quello di prima dove stampavamo provavamo i nostri programmi e poi c'è un altro che si chiama Repl Rep sta per Read Evaluate and Print Loop Loop ciclo in cui faccio Read Evaluate and Print legge ciò che scrivo lo valuta cioè lo esegue e printa il risultato stampa il risultato qui abbiamo queste tre freccioline che ci dicono Python è in ascolto se io scrivo Print ciao lui mi stampa ciao cioè ha eseguito subito questa istruzione senza bisogno di creare un file e fare run non mi ricordo come si scrive come si fa un'operazione se voglio scrivere ciao e poi voglio scrivere anche a tutti lo posso scrivere così? Eh sì ma me lo scrive tutto appiccicato allora come faccio? Ah aspetta mi hanno detto che con la virgola puoi mettere più parametri e quindi posso sperimentare no? con la sintassi il vostro compagno mi diceva ma posso fare anche altre operazioni? 3 per 9 eh certo 27 ma anche operazioni più complicate no? appunto 3 per 9 meno 2 o il tutto diviso 6 addirittura in modalità la p di repl vuol dire print che vuol dire che il print lo fa da solo anche se non glielo metto e se io scrivessi 3 più 7 senza print davanti mi stampa già il risultato quindi di fatto questa modalità mi serve sia per testare come funzionano certe istruzioni sia come calcolatrice se volete anche mi ricordo all'esame alcuni dicono ma per domande di teoria possiamo usare la calcolatrice io li guardo strani perché dite scusami c'è il python lì fate calcolare tutto quello che vuoi e qui dentro posso scrivere qualunque istruzione python che sia messa all'interno del programma quindi questa modalità interattiva è molto utile sviluppo il programma poi non so bene come si scrive un'istruzione voglio fare una prova posso semplicemente aprire una finestra ce l'ho lì a disposizione in tutti i momenti e la posso utilizzare ok quindi questa la troviamo molto comoda la stessa cosa succede anche su repl.com che ho perso perché questa che viene chiamata console in realtà è una console di python quindi anche qua se scrivo 4 più 1 ho rotto inter ah no scusate questa non è devo fare ah non mi ricordo più come si fa perché ogni tanto lo cambiano no questa è una scelta questa qui perché è una scelta su bash scusatemi al momento non ricordo più da dove va beh ve lo dico la prossima volta non voglio farvi perder tempo adesso è possibile anche qua aprire una ricordavo che fosse qua ma forse perché c'era aspetta si può anche fare la stessa cosa online con lo stesso con lo stesso scopo esiste anche e lo aggiungo ancora come ultimo elemento ultimo ambiente in cui che useremo per fare eseguire i nostri programmini un sito che si chiama python tutor che è molto più spartano è molto più brutto da vedere ma lo useremo spesso almeno nelle prime settimane del corso perché ci permette di vedere dentro python cioè di vedere in modo grafico come questa figurina qua come il python memorizza i dati e quindi ci aiuterà molto a capire come sono fatte le strutture dati avanzate basta che voi andiate qua su questo python tutor punto com selezioniamo python e poi mettiamo il nostro codice e vedete che anche lui implementa python 3.11 visualizza l'esecuzione in questo caso mi ha stampato da qualche parte che non trovo più print output eccolo qua mi ha stampato l'output del programma però questo di per sé sarebbe bruttino scomodo da usare semplicemente per fare una print però è molto comodo se io usassi anche delle variabili sì lo so poi lo faccio tipo adesso non parliamo ancora di variabili ma è solo per farvi vedere la potenza di questo strumento e mi fa vedere quando lo eseguo che c'è una variabile che si chiama A e il cui contenuto è il messaggio ciao che poi era stato stampato quindi quando ho più variabili immaginate l'esercito di prima dove avevamo una variabile che si chiamava MCD e un'altra che si chiamava prova e a volte non è tanto non era facilissimo capire cosa facevano queste due e qui si può andare avanti passo passo e ti visualizza effettivamente il valore delle singole variabili in questo è l'ambiente sono gli ambienti all'interno dei quali lavoreremo principalmente ovviamente quello di Visual Studio Code e se vogliamo come esempio abbiamo usato una prima istruzione python che è data dalla funzione print quindi per ora siamo capaci a fare programmi in python usando un'istruzione sola print però vediamo un po' come sono descritte queste istruzioni in questo caso print è una funzione che ha l'effetto quando viene usata di visualizzare ciò che viene passato tra parentesi come argomento da stampare e in particolare la sintesi dice che io posso scrivere print senza nessun valore e lui mi stamperà una riga vuota oppure con uno o più valori separati da virgole quindi qui fa vedere ad esempio che stampa un messaggio virgola 6 più 7 virgola punto esclamativo cosa fa questa istruzione ce lo facciamo dire dalla REPL visto che ce l'abbiamo aperta print risultato chiusa virgolette virgola 3 più 7 non mi ricordo più che numero ci fosse lo di là ma fa lo stesso punto esclamativo quindi ho chiamato la funzione print con tre valori con tre argomenti e questi vengono stampati tutti e tre sulla stessa riga separati da uno spazio vedete che qua c'è uno spazio qua c'è uno spazio e in ciò che ho scritto qua non c'era nessuno spazio questo mi serve perché se voglio ovviamente stampare tre valori anziché scrivere un, due, tre che sarebbe tutto appiccicato mi fa uno spazio due spazio tre quindi ogni volta che vogliamo visualizzare nell'output il risultato di un'operazione possiamo usare la funzione print a cui passiamo due tipi di valori per ora due tipi di valori o un messaggio una stringa tra virgolette oppure un'espressione numerica poi in realtà impareremo che ci sono altri tipi di espressioni anche sulle stringhe stesse che viene calcolata ed eseguita questa funzione print fa parte delle funzioni di base della libreria standard di python e tutte le volte che voglio usare una funzione della libreria di python la sintesi è sempre la stessa nome della funzione parentesi argomenti della funzione ci sono funzioni che non hanno argomenti come la stessa funzione print in cui posso non mettere nulla ma devo comunque indicare la parentesi per indicare che sto chiamando quella funzione lì in questo caso mi ha stampato una riga vuota in questo caso la funzione print è una funzione che accetta come argomento una riga vuota la funzione che è il suo max che è anche un'altra funzione che esiste invece si arrabbia se cerco di chiamarla con zero argomenti perché invece lei ne ha bisogno di almeno uno o due argomenti quindi ogni funzione si comporta in un modo leggermente diverso la sintesi per rara è sempre la stessa nome della funzione tra parentesi gli argomenti i valori su cui questa deve lavorare dimmi prego per stampare una riga vuota quindi quando devi stampare un titolo riga vuota e poi i valori per motivi puramente estetici oppure in realtà quando stampi tanti valori su righe diverse e poi alla fine vuoi andare a capo allora un print senza nulla ti porta sulla riga successiva quelli che abbiamo chiamato messaggi buongiorno hello world eccetera c'è delle porzioni di testo racchiute tra virgolette tecnicamente si chiamano string non sono string delle scarpe sono string di caratteri sono delle sequenze consecutive di caratteri e in python ci sono due modi di indicare una stringa ora chiudendo tre modi adesso ne vedo due ora chiudendo il contenuto tra doppi apici o tra singolo apice c'è il carattere di apostrofo è indifferente ok potete usare o una o l'altra a seconda di cosa vi piace di più ok è diverso rispetto a c o java dove l'apice singolo rappresenta il carattere l'apice doppio rappresenta la stringa qui è uguale il tipo carattere non esiste in python è solo una questione di comodità io tendo a preferire gli apici singoli perché sono meno pesanti visivamente ma è assolutamente una una preferenza personale dopo di che il funzionamento della funzione print è proprio quella di prendere uno per uno i vari parametri nel caso in cui siano stringhe stamparle tali e quali nel caso in cui siano espressioni numeriche calcolare il risultato dell'espressione e stampare il risultato stesso ok in questo caso queste espressioni le stiamo calcolando con dei numeri con delle costanti possono essere costanti intere costanti reali eccetera quindi non è che sia molto utile però in generale useremo poi delle variabili che ogni volta hanno dei valori che evolvono e poi potremo fare quindi delle espressioni etymetiche che usano che coinvolgono queste variabili abbiamo visto che nello scrivere un programma si possono compiere degli errori prima abbiamo fatto un errore cretino abbiamo dimenticato una parente di tonda possiamo dimenticare le chiusi virgolette gli errori che ho chiamato cretini quindi sono i cosiddetti errori di sintassi cioè sbaglio nel modo in cui scrivo le istruzioni anziché print scrivo print quindi metto il nome di una funzione che non esiste perché mi ha sbagliato mi ha spuggito il dito sulla tastiera questi sono tutti errori di sintassi che rendono il programma impossibile da eseguire perché non seguono le regole corrette devo bilanciare parentesi o se apro una virgoletta non posso aprire una virgoletta semplice e chiudere una virgoletta doppia devo chiudere la stessa tipo di virgolette che ho aperto regole banali di questo genere banali poi anche meno banali ci saranno ma sono gli errori più facili da riconoscere da correggere innanzitutto perché nella maggior parte dei casi se ne accorge già l'ide sicuramente al primo run me lo dice e si correggono facilmente il nome print non è definito e poi lui addirittura mi prende in giro e mi dice ma non è che volevi dire print eh sì effettivamente questi sono facili vengono evidenziati perché non permettono a Python di continuare ad eseguire il programma poi ci sono gli errori subdoli gli errori logici in cui il programma sintaticamente è perfetto è corretto arriva fino in fondo e stampa una schifezza e calcola un valore sbagliato perché perché ho sbagliato io ovviamente no? qui dei due tra me e la macchina l'unico intelligente sono io umano e quindi la colpa non la posso dare alla macchina mai anche se sarebbe bello gli errori logici sono errori che non bloccano l'esecuzione del programma quindi è un programma perfettamente valido in Python ma quel programma non risolve il problema per cui è stato pensato noi prima avevamo beh adesso ho cambiato il progetto qua ma lo possiamo riprendere avevamo avevo non avevo la colpa avevo messo un minore anziché un minore uguale se io metto minore anziché minore uguale è sbagliato perché nel caso in cui B sia multiplo di A o viceversa il massimo condivisore è A o B stesso e col minore non l'avrei trovato perché era un tentativo una prova che non facevo era un programma che magari lo provavo con 1721 provavo con 1534 provavo con tante copie di valori e mi dava sempre il valore corretto tranne il caso in cui guarda caso uno fosse multiplo dell'altro allora mi avrebbe dato il valore errato quindi se il programma almeno in un caso ha il valore errato il programma è sbagliato non è che puoi dire sì ma nella maggior parte dei casi è bravo nella maggior parte dei casi la mattina mi sveglio quindi è un errore che non è evidente tra l'altro magari non è che appunto se ti dici minimo condivisore tra 2 e 10 mi stampo 89 ipotizzo che sia facile da correggere quell'errore perché è talmente sballato gli errori più subdoli sono quelli che non capitano sempre solo con certi valori e sbagliano di poco e allora devi andare a capire cosa avevi sbagliato se sei fortunato se sei fortunato se siamo fortunati il programma si blocca del tutto non termina va in un loop infinito e va bene se siamo un po' meno fortunati l'errore è a livello di codice un minore anziché un minore uguale ho sbagliato un'indentazione un rientro ho sbagliato avevo la variabile abc e ho scritto B al posto di C perché mi sono confuso in quel momento e quindi sto usando e allora li trovo con fatica ma li correggo facilmente sono difficili da trovare facili da correggere perché sono sviste nella scrittura del codice non sviste tali da rovinare la sintassi e rendere il codice illegibile non compilabile ma diciamo così sviste locali se sono ancora meno fortunato e purtroppo nella maggior parte dei casi era l'algoritmo sbagliato magari ho dimenticato un caso proprio nell'algoritmo che ho fatto sul certo codice ho fatto sul certo ho fatto nella mia mente e quando ho tradotto quell'algoritmo in codice Python l'ho tradotto perfettamente ma era sbagliato lui perché dimenticava dei pezzi dimenticavo ad esempio quel discorso di prima in cui ho dimenticato l'incremento di prova nel caso in cui il valore era corretto era un errore logico che in alcuni casi mi dà comunque il risultato corretto in altri casi il programma mi va in loop infinito non termina mai perché a livello dell'algoritmo mi sono dimenticato un pezzo ho sbagliato un pezzo ok quindi una volta che il programma l'ho scritto devo andare a lottare contro gli errori prima risolvo i più facili e poi via via rimarranno quelli più subito quelli più difficili che sono anche quelli più costosi da da correggere perché se a un certo punto mi accorgo che l'algoritmo che avevo pensato proprio non è che ho dimenticato un pezzo ma proprio non funziona butto via e ricominciato a capo si spera di no che con un po' di esperienza uno non debba proprio buttare via tutto però ci accorgeremo che magari su programmi più complessi scriviamo una parte di programma e poi da lì non riusciamo a cavarci nulla perché avevamo fatto le scelte in precedenza magari sul modo di memorizzare i dati che alla fine non mi portano a soluzione non dobbiamo aver paura di dire lasciamo perdere proviamo a ripensarlo da capo a volte ripensare a mente fresca sapendo i problemi che mi ha portato la versione precedente mi può portare a un miglioramento questo fa parte del gioco non ci deve spaventare gli errori sono una parte normale del processo di sviluppo ok quindi diamo per scontato che gli errori ci saranno delle varie tipologie e diamo per scontato che dobbiamo imparare a gestire gli errori così come dobbiamo imparare a scrivere i programmi è la stessa cosa sono due facce della stessa medaglia ok due avvisi rapidissimi entro venerdì noi pubblicheremo sul sito i testi dei laboratori il sito del corso quindi dovete guardare il primo chiaramente che si svolgerà la settimana prossima mercoledì e giovedì e anche lì entro venerdì vi pubblicherò poi vi avviso anche su telegram i cognomi delle squadre in cui dividici in laboratorio ok quindi la settimana prossima ricominciamo anche i laboratori grazie arrivederci